ricordi a dicembre quel caro bambino che nasce a natale senza neanche un lettino dentro una mangiatoia sulla paglia del fieno tra l'asino e il bue si chiamò nazareno quel bimbo cresciuto e fattosi uomo guariva i malati con animo buono compiva prodigi tale folle era amato fu re dei giudei e di tutto il creato patì cristo in croce per salvare la terra da ingiustizie sorprosi da violenza e da guerra farisei e potenti lo credettero morto ma dopo tre giorni gesù cristo è risorto e oggi a pasqua che sorpresa troverai nell'uovo fede speranza in un mondo nuovo l'ulivo la colomba il pulcino un coniglietto e un agnellino sono segni di pace di serenità di gioia di bene e di fraternità